Avvocato Paolo Antonini, presidente degli Amici del Po di Casal Maggiore, la vita di Golena è abituata ai cambiamenti del grande fiume, c'è però molta attenzione da mettere soprattutto adesso con la questione dei cambiamenti climatici per la sicurezza ma anche per proprio il benessere ecologico, nel senso che sappiamo si va sempre di più verso momenti di grossa siccità e quindi anche variazioni del fiume. Il fiume non è nell'agenda politica generale, non è nelle considerazioni di priorità che necessiterebbe questa grandissima area che ha un valore ambientale ma che ha un valore economico, che ha un valore culturale e che ha anche un valore recreativo, sportivo e residenziale. Tutte intanto queste attività che noi canottieri svolgiamo nelle Golene devono ricordare che noi siamo ospiti del fiume e questa è una zona di espansione del fiume in caso di piene e quindi tutti gli edifici, i manufatti, le realizzazioni devono avere una grande compatibilità idraulica ma soprattutto significa che le Golene devono tornare ad essere luogo di espansione del fiume. Voi venendo da Cremona a Casal Maggiore avrete visto passare sugli argini delle Golene che oggi sono diventate invece dei luoghi di agricoltura intensiva dove non esiste più il sottobosco, non esiste più nessun tipo di piantumazione compatibile con le emergenze idrauliche, solo esclusivamente un'agricoltura intensiva. Ma le Golene non sono il luogo dell'agricoltura intensiva perché quando arriva una grande onda d'acqua l'assenza del sediceto spontaneo, dei terreni capaci di frenare l'onda d'urto non riescono a rallentare la forza del fiume. Se le uniamo ai cambiamenti climatici questo problema cosa comporta? Che arrivano valanghe di acqua a velocità sempre più elevate a tempi più ristretti. È tutto fresato, tutto pulito, piopetti, mais, non esiste niente che fermi la forza d'urto che arriva a riversarsi contro gli agini maestri a velocità, quantità e dimensioni che non sono mai state neanche previste negli scenari dell'autorità di Bacino e degli enti che sono preposti al governo della tutela idraulica.